siamo con marco pastorelli ottico optometrista di novi ligure parliamo di lenti a contatto per occhi speciali e certo soprattutto esistono occhi speciali quindi occhi che hanno purtroppo per loro ha avuto dei problemi oppure presentano delle deformazioni delle modifiche proprio tali da richiedere lenti fatte esattamente su misura questo comporta una tipologia di lente esattamente custom made cioè fatta esattamente su misura addirittura si arriva al punto di fare un calco della superficie anteriore dell'occhio per poter costruire una lente che si adatti in modo perfetto sono lenti dedicate a chi soffre di chiratocono chi ha avuto un trapianto corneale oppure a chi causa che sono un trauma ha avuto un problema oculare importante ecco queste sono lenti molto particolari ma la casistica comunque una casistica importante perché questi sono soggetti che devono utilizzare lenti molto molto specifiche quindi non possono pensare di utilizzare lenti normali diciamo in linea di massima sono lenti rigide gas permeabili quindi lasciano passare molto l'ossigeno ma non sono morbide e flessibili ad esempio come una lente giornaliera una lente mensile sono lenti che danno la loro forma all'occhio sono lenti molto tecniche e ci vuole tanta esperienza per poter fare questa tipologia di lenti e soprattutto tanta strumentazione per poter monitorare momento per momento la miglior soluzione